Tutti i momenti che ho passato qua, tutti i golli che ho fatto, uno per uno. Va bene signori, se ci consentite vorremmo andare a un impegno con la famiglia, oggi è anche il suo compleanno, grazie. Io vorrei dire l'ultima cosa, l'ho sentito gattuso, qualche giorno fa io lo ritengo una persona eccezionale, lo ritengo mio amico, lo conosco da 10 anni, giocavamo in nazionali e gli auguro che possa portare il Palermo di nuovo in Serie A, dove questa città merita di stare. Grazie. Grazie.